Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo podcast di analisisportiva.it. Nell'episodio di oggi parliamo dell'articolo Coopminers al top, dati e analisi, ovvero un articolo dedicato a Theon Coopminers, il centrocampista dell'Atalanta di nazionalità olandese che sta facendo delle buone prestazioni e quindi ha un po' impressionato da questo punto di vista e lo faremo potendo sfruttare dei grafici tra cui quelli fornitimi da laboratorio calcistico con cui abbiamo fatto una collaborazione che dopo questo podcast vi invito ad andare a visitare sul loro profilo instagram. Coopminers come dicevo al top per via delle sue ottime prestazioni delle ultime gare in particolar modo ha avuto molto più spazio soprattutto ora che l'Atalanta ha avuto una lunga infermieria ma anche grazie a un cambio di funzione che gli è stata chiesta dal suo allenatore. Infatti la scelta di Gasperini è stata quella di spostare Coopminers in una posizione più offensiva quindi a poter lavorare molto più vicino al reparto offensivo questo perché perché da questo punto di vista c'è stato un calo anche realizzativo e quindi serviva un giocatore che potesse meglio collegare la linea offensiva ma allo stesso tempo che potesse aumentare la pericolosità. Quindi in questo modo con questo cambiamento Gasperini è riuscito a valorizzare il suo calcitore. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questo giocatore. Coopminers ha delle ottime qualità atletiche ha anche una buona tecnica e una proposizione offensiva. Infatti le doti offensive sono abbastanza buone. Difensivamente se escludiamo la prima pressione non è particolarmente bravo come centrocampista in fase difensiva. Le nuove funzioni di Coopminers adesso sono quelle di avere compiti più offensivi quindi può arrivare più vicino alla porta ma può essere anche più presente negli scambi offensivi e anche in zone di rifinitura e su questo sicuramente i suoi dati sono migliorati. Il giocatore si muove complessivamente un po' a tutto campo soprattutto prediligendo le zone da mezzala e lavora tanto nelle zone centrali però si allarga anche verso gli esterni. Quindi lui lavora tanto a centrocampo e specie nella tre quarti avversaria e complessivamente quindi lui tende a svariare sia dalla propria mediana sia a quella avversaria. Si può dire che lui lavora tantissimo nel secondo terzo di campo cioè quindi la zona sostanzialmente centrale del rettangolo verde però ha una propensione verso l'ultimo terzo cioè quello avversario, quello offensivo dove i suoi dati sono migliorati. Grazie ai grafici che mi sono stati forniti dal laboratorio calcistico dove rinnovo l'invito di andare a visitare sul profilo instagram vediamo che Coopminers è sicuramente migliorato dal punto di vista offensivo dove ha una buona realizzazione sul numero di tiri però in particolare è migliorato sui passaggi progressivi, sui passaggi chiave e la probabilità di fare un assist. Quindi ha dimostrato di avere delle ottime doti offensive. In particolare è migliorato anche sulla ricezione dei palloni. Per quanto riguarda invece la fase difensiva sicuramente i suoi dati sono buoni diciamo in una fase di pressing in particolar modo in una fase iniziale ma complessivamente per quanto riguarda la copertura per quanto riguarda poi l'efficacia della della pressione i suoi dati sono da migliorare ma sufficienti mentre è piuttosto insufficiente sui tackles. In conclusione possiamo dire che Coopminers è un buon centrocampista che ha degli ottimi spunti offensivi. Rispetto al passato il suo impiego è cambiato questo perché probabilmente Gasperini lo ha anche un po' alzato di posizione quindi le sue funzioni sono completamente cambiate in campo rispetto a prima o comunque si sono un po' completate. Secondo i ragazzi di laboratorio calcistico che ringrazio per il contributo il giocatore ha un'incredibile precisione nei tocchi da lontano passaggi o tiri che siano. Anche loro convengono che nonostante le buone doti fisiche del giocatore Coopminers debba migliorare nelle sue abilità difensive perché difensivamente infatti fa fatica quando si va oltre la prima pressione. Vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast che troverete sia nella versione per Spotify e altre piattaforme simili e sia anche in forma video podcast su YouTube. Poi vi invito a condividere questo articolo con i vostri contatti per aiutarmi a diffondere questo progetto di analisisportiva.it. Voglio ricordarvi inoltre che è uscito da poco il mio primo libro il calcio al tempo del covid-19 che potete trovare in tutte le librerie sia online che fisiche a cui ho dedicato un articolo che trovate sul sito. L'ho pubblicato insieme all'editore Planet Book se volete acquistarlo dal sito dell'editore lo trovate ancora con un piccolo sconto con la spedizione gratuita. Poi invito a seguirmi sui profili Instagram LinkedIn su YouTube su Spotify. Inoltre è aperta l'email contatti.analisisportiva.gmail.com che è l'email per i contatti a cui potete scrivermi se avete delle proposte se volete collaborare oppure per chiedere informazioni. Inoltre ho da poco aggiunto la funzione delle donazioni per il sito. Chiunque voglia contribuire con una piccola donazione libera con una piccola modica cifra scelta può farlo e i soldi saranno utilizzati per migliorare il sito per l'acquisto di software a pagamento per l'acquisto di magari strumentazioni migliori ma anche per dare un piccolo rimborso anche ai futuri collaboratori. Questo perché allo stesso tempo per il sito sto cercando dei collaboratori che mi aiutino a pubblicare nuovi contenuti a creare nuove rubriche e allo stesso tempo oltre ad aumentare le visite al sito spero anche di dare più visibilità a chi vuole trattare questi argomenti che ha la preparazione per farlo. Ci tengo a ricordare quindi la collaborazione che ho fatto con Laboratorio Calcistico in questo articolo con i loro grafici di cui mi auguro di potermi avvalere nuovamente della collaborazione. Così è tutto per questo podcast ci vediamo e ci sentiamo nelle prossime pubblicazioni. Ciao e alla prossima! Ciao! Ciao!